musica 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 UUUUUU oh xxxx 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 allora dai a tutti ragazzi no 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 Con una chiave di Quella a fare lì Come si chiama? Di diamanti ho preso tra blocchi di diamanti Questo l'ho preso all'asta Questo l'ho preso all'asta Questo l'ho preso Cazzo ridi Cazzo ti sforzi Cazzo ti sforzi Cos'hai fatto? Ah poi abbiamo messo qui Gli spawner Tanto abbiamo finito la casa Guardate che bella che è Adesso lo dobbiamo fare anche Il player shop Comunque L'abbiamo fatto qui Con gli spawner L'ho messo uno di spider Ma mi son dimenticato Che non ha spawner Se non ci stai vicino Quindi puoi lo riprendere Tu non so perché ridi Ma adesso dobbiamo fare lo shop Ah mi sa Slash shop sell Ma cosa? Non so come si fa lo shop Aspetta Ah te lo dico io aspetta Devi prendere l'oggetto Che vuoi vendere Intanto Sì Ah beh Sì prendilo Aspetta Non abbiamo cesta Ah sì Ecco Aspetta Shop Bui Non stai guardando la cesta Che cosa vuol dire Non stai guardando Ah Devi cliccarti sopra Con Se non A sette No Sì 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 Ah comunque ragazzi Vi ho fatto Questo qui E la nostra casettina Sessanto uno Ma che schifo Ma cosa dici? Niente Niente Che se spara muore ragazzi Ah sono esperto Perché Tanto che facciamo Ma l'isola Completa Qui abbiamo un po' di roba Per fare pozioni E abbiamo già fatto Infatti anche un po' di pozioni Che sono queste E metteremo in vendita E dato che lui È più povero di me Cioè non è vero Io devo fare Gli shop bui E lui fa Gli shop sell Ah Comunque No ma io Io vado su Per prendere Le Le Lascia no? E poi non la prendo Questa che bella cosa Ok 6 Perfetto Quanto è così fatto Così fatto Così fatto Lo Glass bottle Mettile a 10 Luna Scusa È poco 5 È pochissimo Aspetta Non ho così tanti Come si cambia Come si cambia il prezzo Aspetta Un'idea però Ecco Adesso io faccio Così 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 Se vieni su anche tu Chiudi Chiudi la porta Se no Chiudo Poi Aspetta Io voglio Vendere una Cosa 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 metti Tu di compro Aspetta Cosa metti Non mettere i minerali Che non ci servono ancora E spendiamo troppi soldi Comunque Non è che se faccio così Poi tu me la fai Aprire la stessa Sì Perfetto Eh Come hai fatto Cambiare qua Il warp Con questo colore Io non so Guarda Eh Lo so Ma hai fatto tu O non l'ho fatto Io non l'ho fatto Eh Allora non lo so Che hai fatto Non ho fatto Z3 O se la Z3 Vero l'ho fatto io Eh What the fuck Eh Fallo tu allora Dai Ora Fallo tu Va Perché Eh Sì Vabbè Sto Piglia Allora Cosa vendiamo Vendiamo Tu di lì Fai I compro Io Poi faccio Install Allora Vendiamo Rob intanto Del Allora Aspetta io Ho bisogno Uno di qualcosa Che così può Possono vendermi Solo uno stack No Non possono venderti Solo uno stack Sì Guarda E come fai A fare i Così Buy Eh Così Così E Adesso io Vado giù Riempio L'accesso Di qualcosa Così Ecco qua Guarda Adesso me ne possono vendere Solo 256 Sì Molto figlio Beh Airtype non mi risponde Ma vabbè Allora Io direi Di vendere Così Tanto Ortaggi Eh Ortaggi Sì 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 Poi Quindi Ortaggi Eh no eh Eh no eh Eh no eh Eh no eh Eh sì Ortaggi Vines Poi facciamo la farm Quindi vabbè Uno Due Tre Grano Non lo vendo Perché ci serve Uno Due E Vendo anche le uova Se io lo sai che sei tu che non hai il War Sei tu che non hai il War Eh ti ho dato il cartello Non io non posso spaccarti il tuo cartello di War Non c'era proprio eh Ma se ce ne erano due Come faccio a spaccare il tuo cartello Non posso io eh 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 Boh Cazzo Silvendo 18 All'uno Perché ci metto un sacco Ok Sono uscito Bene Questi qui sono Questi qui sono gli ortaggi Ho bisogno di un cartello Vabbè Vabbè io uso questo La farmquo Uno Due Tre E quindi vengono nove cartelli Bella Ok Quindi E facciamo Qui Qui Sicuramente qui Mettiamo Scritto Ok così Questo qua Questo qua lo vendo Qua Quanto lo vendo Uno spawner di pig Ah Tre Cinque Tre Mila Non te lo compara Quattro Mila Tre Mila Non te lo compara Neanche Tre Mila Ma si che te lo comprano Guarda L'hanno comprato Diecimila Una volta Scusa Allo shop Costa No dai Mettiamo A 3005 Giugno faccio Dei libri Escritti E li vado a Scambiare Non Stip Va bene Cosa ti da Sperate Fanno un casino Allora Ah Lo si dà Ecco Cosa dobbiamo vendere Tutta Ok Lo vendo A 2750 Cosa Il Mod spawner No no Venti La 3000 Eh Va bene No Questo qui Lo cambio 2.999 No no Ok L'Obsidian L'Obsidian Spera Allora Poi che cosa vendiamo Il piccone No Silt touch No Fanculo Efficienza 1 Abbiamo un sacco di piccolo Ah si Le bardature per cavallo Ecco Di diamante Ne tengo Una Però le altre le vendo Come No Davvero Ti do anche un diamante E ti dico io cosa fare Come fa Zback Allora Vendile Qui Una mettila a 1000 L'una No 950 Cambia Mettila a 900 E dimmi Però Clicca sopra Col sinistro Fai Slash Shop Price E scrive Ok Adesso metti dentro il diamante E clicca con il destro Il sinistro Ok Poi cambia questo E metti No Questo qui va bene Mi Ottimo Este E Isto E Do anche Mi Grazie per la visione!